Gli scienziati hanno dimostrato il legame tra le attività umane e i fenomeni meteorologici estremi degli ultimi decenni. Si tratta di ondate di calore intense, uragani e tifoni, scioglimento dei ghiacciai, aumento del livello degli oceani mondiali, alluvioni di città e isole. Oltre a Venezia, la lista rossa dei luoghi che potrebbero essere inondati include le isole grecche di Corfu, Rodi e la città di Paphos, Dubrovnik in Croazia, Pisa e Siracusa in Italia. Annualmente circa 5 milioni di persone muoiono a causa delle alte temperature e molte diventano rifugiati climatici. Questa cifra raggiungerà un miliardo entro il 2050. Gli animali muoiono. Più di un milione di animali sono stati feriti negli incendi boschivi in Australia nel 2020. Gli scienziati credono che il riscaldamento globale possa risvegliare virus preistorici, che sono stati congelati nei ghiacciai per millenni. Non è un futuro molto promettente.